A proposito di inclusione, se un componente del set definisce a se stesso omosessuale, transgender o asessuale, c'è la questione fondamentale delle desinenze. Io sono stata, io sono stato. Ecco no, noi favoriamo l'utilizzo del più corretto e privo di genere stato. Esempio. Sei andato alla riunione? Ho trovato molto bravo il relatoro. Ecco, per noi anche dire a bella può essere considerata una molestia. Mi scusi professoressa, quindi per voi è meglio se uno dice a merdu. Grazie. 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 Grazie.